E lo so ragazzi miei, dormire è sempre più difficoltoso anche perché la sera guardiamo serie tv, guardiamo film, leggiamo libri, insomma spesso ci capita di avere problemi di sonno. Io sono il primo a non riuscire a dormire e questo video sarà la soluzione a tutti i vostri problemi. Parlerò di una serie di applicazioni molto comode e un po' meno con le quali ragazzi miei potrete dormire meglio sfruttando i vostri dispositivi Android. Vi anticipo che tutte le applicazioni delle quali parleremo sono applicazioni del tutto gratuita quindi non spenderemo neanche una lira carissimi miei e io sono Andorio Calindo e vi auguro buonanotte e vi do un benvenuto a un nuovo video di TechFanpage. La prima applicazione per dormire meglio con dispositivi Android e Twilight ve ne ho già parlato si tratta dell'applicazione con la quale è possibile attivare la modalità notte anche nei dispositivi animati dal sistema operativo di Google. Il suo funzionamento è veramente molto semplice e con quest'app si potrà regolare in modo del tutto automatico o comunque anche manuale, la temperatura del colore in modo tale da avere colori che sono inferiori ai 3500K e quindi che non danno fastidio al sonno e anche la retroilluminazione. Il tutto grazie ad un'applicazione veramente fatta bene e dotata di un'interfaccia grafica semplicissima da utilizzare. La seconda applicazione che vogliamo consigliarvi per dormire meglio sfruttando un dispositivo Android si chiama Sleep as Android ed è un'app realizzata veramente molto bene. Le funzionalità di questa app sono fantastiche, si tratta di un'app che funziona anche con dispositivi indossabili e si integra al 100%, è possibile impostare delle sveglie, è possibile vedere i propri dati statistici di sonno, è possibile effettuare tutta una serie di operazioni. Operazioni che vanno dall'analisi del sonno fino alla registrazione dei rumori del sonno e addirittura all'antirussamento che grazie al microfono del dispositivo durante la notte ascolterà il vostro sonno e nel caso in cui russiate vi allerterà facendovi svegliare. Ed è inoltre possibile vedere addirittura le statistiche di russamento in modo tale di capire quanto si russa. Di applicazioni ambientali ce ne sono tante ma nessuna è come Relax Melodies, un'applicazione veramente fantastica nella quale già gratuitamente è possibile accedere ad un ampio database di suoni e colonne sonore. Si tratta di un'app che in effetti è sviluppata sia per lo svolgimento di esercizi di yoga che proprio per rilassarsi e dormire e la cosa bella di questa applicazione è che è possibile combinare diversi suoni in modo tale da trovare la combinazione che fa più al caso proprio e riuscire ad addormentarsi con più facilità. E se proprio avete paura di dormire da soli l'applicazione vi consiglio è Monster Scanner, un'applicazione ovviamente giocosa con la quale sarà possibile attivare uno scan nel proprio dispositivo, scan che potrà avvisarvi nel caso in cui dovesse avvicinarsi a voi un fantasma oppure nel caso in cui si dovesse avvicinare a voi uno zombie, anche se in quel caso secondo me c'è ben poco da avvisare. E mostri a parte sono sicuro che queste applicazioni saranno utili a molti di voi, applicazioni che in effetti vi potranno aiutare a ottimizzare e anche migliorare il vostro sonno magari capendo un po' i problemi che non vi fanno dormire oppure i problemi che vi fanno svegliare la notte. Io sono Andrea Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di TED Fanpage.